Il bacio d'una morta di Carolina Invernizio parte seconda il romanzo di Clara primo noi sappiamo che Clara sola era stata considerata come figlia da suo padre il conte Rolando Vergani e questi aveva riconcentrato su di lei tutto l'affetto esaltato che aveva un giorno sentito per la moglie colpevole il conte aveva l'aspetto burbero imperioso la voce aspra sibilante tanto che i servi tremavano dinanzi a lui non vi era che Clara che potesse ammansire ridurre quel carattere inasprito da un violento disinganno quando la gentile creatura sedeva al fianco del padre la modulazione della voce di lui si raddolciva senza che egli neppure se ne accorgesse l'amava e la benediva persuaso di ripeterlo venti volte al giorno ma in realtà di rado parlava perché era un uomo di pochissime parole la morte della moglie aveva cresciuto la sua misantropia e reso ancora più burbero il suo carattere guai a chi gli ricordava la consorte perduta o che facesse una lontana allusione a lei finché Clara fu fanciulletta ella non comprese né immaginò nulla del triste dramma che si era compiuto nella sua famiglia la morte della madre l'aveva un po colpita ed aveva sparso sul volto della piccina un velo di melanconia che sempre le rimase ma quel tenue velo non la rendeva che più affascinante Clara era dotata di un temperamento nervoso impressionabilissimo una tale sensibilità spesso eccessiva fu quella che doveva più tardi recare una trista influenza nella sua vita la sua educazione non fu difficile a compirsi perché ella era sveglia intelligente vogliosissima di imparare la sua governante che era cattolica fervente le trasfuse la sua fede il suo ardore nelle preghiere e l'idea di tutto ciò che vi è di buono e di nobile nel mondo le ricchezze da cui era circondata non avevano il potere di inorgoglire la sua vergine anima e nelle preghiere che ogni sera si volgevano al cielo dai rozzi abituri che circondavano la graziosa villa del conte si sarebbe sempre sentito pronunziare il nome adorato di Clara quante volte la contessina accompagnata dalla governante si recava nei meschini tuguri dove una famigliuola aspettava il suo soccorso per togliersi la fame o un ammalato povero domandava per compassione quei servigi che non si possono comprare col denaro con quanta premura la giovinetta si affrettava in ogni luogo dove sapeva che verano persone che avevano bisogno di lei con quanta gentilezza con quale soave sorriso parlava loro li consolava li confortava ad attendere con pazienza la guarigione oppure disporsi religiosamente alla morte una volta che la contessina Clara dovette stare a letto per una febbre gagliarda che la colpì a causa di uno strapazzo in quanto che aveva voluto assistere una notte intiera una fanciulla moribonda che si dava alla disperazione e rifiutava aiuti umani e religiosi e solo si calmò alle parole e conforti di Clara e spirò benedicendola col sorriso sulle labbra il paese rimase profondamente rattristato buoni e cattivi ricchi e poveri trassero in folla alla villa del conte per avere notizie della salute di Clara la costernazione fu generale necessarono i singhiozzi e di pianti finché durò la malattia l'infermità dell'angelica creatura era ritenuta come una sventura pubblica e non vi era rozza immaginetta collocata sul muro o negli alberi in campagna che non avesse acceso un lume dinanzi e intorno alla quale non si radunassero a pregare perché la nobile fanciulla recuperasse la salute e quando Clara fu riveduta in giardino appoggiata al braccio della governante a volte in un abito bianco con un legger velo attorno al volto ancora languido e abbattuto fu uno scoppio di grida entusiastiche di gioia di riconoscenza e un segno della gioia generale fu un voto per grazia ottenuta che venne appeso all'altare di Maria nella chiesa del villaggio Clara era giunta ai 18 anni senza ancora conoscer nulla del libro della vita la sua esistenza solitaria casta e quasi claustrale non era animata che da due nobili passioni l'amore per il padre e l'amore per il prossimo se suo padre fosse stato meno stravagante ella si sarebbe sentita felice in quel recondito angolo di terra che non avea quasi mai abbandonato e dove la vita scorreva in mezzo a sentimenti delicati teneri deliziosi una sera Clara stava nella sua camera verginale la cui finestra si apriva sul giardino quando un lieve bussare all'uscio della stanza la fece trasalire la governante non poteva essere perché era andata a letto da un pezzo che il padre il quale nel giorno ella aveva visto più turbato del solito venisse da lei a cercare un istante di sollievo di conforto con le guance lievemente colorate gli occhi animati e la corsa ad aprire e si trovò dinanzi un vecchio servo il solo che il conte non avesse rimandato dopo la morte della moglie nemmo così chiamavano il vecchio avea visto nascere Clara l'avea portata fra le braccia ed avea pianto con lei la morte della contessa anzi si era notato che dopo questa morte nemmo era divenuto triste nessun sorriso era più ricomparso sulle sue labbra e spesso si assentava dalla villa senza alcuna ragione restando lontano fin due o tre giorni e quando tornava era più conturbato che mai Clara voleva molto bene al vecchio nemmo e lo trattava con familiarità come se fosse stato suo padre dinanzi a lui essa si sentiva più franca più espansiva tu nemmo a quest'ora esclamò con sorpresa la giovinetta quando vide il vecchio servo hai qualche cosa di grave da dirmi il babbo sta male no il signor conte sta benissimo e riposa ma voi avete indovinato o qualche cosa di grave da confidarvi Clara turbata introdusse il vecchio in camera nemmo chiuse l'uscio con circospezione anzi vi mise anche il paletto e rivolgendosi alla fanciulla che lo guardava stupita disse nel caso che qualcuno venisse per qualsiasi ragione a disturbarci nel tempo che voi metterete ad aprire io me ne uscirò dalla finestra nessuno deve sapere che sono venuto da voi perché se il signor conte lo risapesse io sarei allontanato e non potrei più servirvi questo preambolo sconcertò Clara e la porse un asseggiolo al vecchio servitore e con voce leggermente tremula siedi gli disse se devi parlarmi a lungo nemmo obbedì ora dimmi presto tutto perché non puoi immaginarti come mi batte il cuore senti e la candida fanciulla che si era seduta presso il vecchio prese con ingenuità la mano di lui e la tenne per un istante sopra il cuore che batteva a colpi precipitosi o non tremate così signorina le disse allora il servitore non vi è nulla che debba spaventarvi indi con voce che si fece commossa continuò voi sapete Clara se io ho voluto bene a vostra madre che ho conosciuto anche lei bambina come voi rispose la fanciulla congiungendo le manine e mio padre apprezzava assai la sua venerazione per la mamma perché volle che tu rimanessi qui anche dopo la morte di lei vostro padre rispose il vecchio gravemente mi aveva congedato davvero non ho nessuna ragione di mentire signorina sì il conte voleva allontanarmi come gli altri ma vostra madre mi aveva affidata una santa missione ed io giurai a me stesso che non vi avrei abbandonata perciò rispose al conte che egli era padrone di scacciarmi ma io non mi sarei mai mosso da questi dintorni perché la contessa al letto di morte mi aveva così ordinato e però sono rimasto Clara ascoltava con sorpresa sempre crescente mia madre ti aveva affidata una missione hai detto e tu l'hai compiuta sto per adempirla disse il vecchio traendo da una tasca interna del vestito una lettera con dei suggelli neri ancora intatti e con la sopra carta alquanto sbiadita dal tempo quando mia figlia avrà 18 anni se la si sarà conservata l'angelo che è ora mi disse vostra madre tu le consegnerai questa lettera e le dirai che sua madre morente la supplica ad adempire quanto le chiede un tremito nervoso agitava le mani di Clara mentre prendeva la lettera mia madre mi supplica disse con le lacrime agli occhi vi è dunque qualche cosa di così grave in questa lettera ruppe i suggelli febbrilmente e aperse il foglio con un palpito di cuore la lettera era così riconcepita mia adorata figlia nell'ora in cui ti scrivo tu sei ancora una bambina e non potresti comprendere ciò che sta per svelarti tua madre morente ma il giorno in cui questa lettera ti sarà consegnata e l'aprirai tu conoscerai già tanto della vita da capire senza troppe spiegazioni i martiri della tua povera madre e adempirai al sacro dovere che la ti impone bene il mondo un fanciullo al quale tu sei legata con vincoli di sangue un fanciullo che ha otto anni meno di te ed è tuo fratello Clara a questo punto si interruppe e guardò il volto di Nemmo io ho un fratello esclamò un fratello e perché non è con me parla Nemmo parla perché tu non mi hai mai detto nulla non potevo signorina vostra madre mi aveva imposto di non parlarvi di vostro fratello fino a che non aveste compiuto 18 anni però tu sai dove gli si trova sì lo so signorina ma finite di leggere la lettera Clara si asciugò le lacrime che le facevano velo agli occhi e proseguì tuo fratello è un povero innocente che tuo padre ha voluto punire ed io sola fui la colpevole della sua nascita se tuo padre sospettasse che tu sai la storia di tuo fratello sarebbe capace di uccidere quella povera creatura come si è macchiato le mani di un altro orribile delitto Clara si fermò di nuovo con un gesto di terrore Dio mio è vero un padre così buono così affettuoso con me ma no non è possibile pensate signorina che vostra madre vi ha scritto poche ore prima di ispirare e non aveva ragione di mentire Clara abbassò il capo ma perché tutto l'affetto di mio padre per me e tanto odio contro mio fratello disse dopo alcuni minuti di silenzio rialzando il pallido volto Nemmo la guardò fisso negli occhi egli sospettava che il fanciullo non fosse suo disse lentamente Clara era troppo candida per capire non era figlio di mia madre balbettò sì signorina ma vi prego continuate a leggere Clara ubbidì la lettera diceva tuo padre ha allontanato il tuo povero fratello l'ha fatto passare per morto e così gli ha tolto il nome e le ricchezze ma tuo fratello vive e lo stesso sangue corre nelle vostre vene vorrai tu abbandonarlo ad una sorte crudele vorrai tu che egli viva diseredato dalla famiglia in balia di un carnefice Clara tua madre morente ti prega mani giunte per l'amor che ella ti ha portato di aver pietà di suo figlio va ricercalo proteggilo io pregherò in cielo per te Clara non respingere il desiderio della tua povera madre che non ha più speranza che in te sola tuo fratello si chiama Alfonso Nemmo quel generoso ed affezionato servitore saprà dirti dove si trova sì per il povero diseredato una madre difendilo da ogni persecuzione e soprattutto cerca di sottrarlo all'odio di suo padre io ti benedirò dal cielo come ti benedico in questo supremo momento in cui sto per lasciare il mondo dove ho tanto sofferto ed ho espiato tanto la tua sventurata madre Clara aveva finito di leggere e con la testa chinata sul petto piangeva a calde lacrime e copriva di baci quel foglio adorato madre mia che mi vedi dal cielo esclamò congiungendo le mani ti giuro che adempirò fino all'ultimo il sacro dovere che tu mi imponi sorridi e prega per me tuo figlio sarà il mio io sarò una madre per mio fratello te lo giuro signorina esclamò Nemmo vivamente commosso la vostra santa madre aveva ragione di non dubitare della vostra bell'anima la fanciulla cercò di asciugarsi le lacrime che continuavano a scorrerle sul viso tu sai dunque dove si trova mio fratello sì signorina rispose Nemmo asciugandosi egli pure una lacrima egli è molto lontano di qui no signorina cinque leghe al più ma bisogna recarvisi per una strada impraticabile e con chi vive mio fratello con un misero capraio un uomo della peggior specie il fanciullo passa per suo figlio è malnutrito e gli tocca di condurre al pascolo le capre sulla montagna ed è mio fratello esclamò clara con esplosione oh mio dio mio dio poi cercando di rinfrancarsi domattina andremo subito da lui e tu mi accompagnerai sentite signorina sarà meglio rimettere la gita al dopo pranzo perché allora il signor conte si ritira nelle sue stanze e non si vede più fino a sera hai ragione del resto troveremo un pretesto per la nostra scappata un ammalato lontano oh come aspetto domani caro caro fratello quanto l'amerò somiglia mia madre sì è tutto il suo ritratto come sono impaziente di vederlo di abbracciarlo e poi fra me e te concerteremo un piano di fuga mio fratello non deve vivere su monti ma deve avere il suo posto in società se mio padre lo respinge io ne farò le veci madre mia aiutami tu dal cielo dove sei dammi coraggio perché io possa adempire come si deve alla tua sacra missione così parlando clara aveva drizzata la sua persona flessibile snella come una giovine palma il suo sguardo dolce profondo pareva perdersi nello spazio come se la sua anima si fosse unita in colloquio con un'altra anima sulle sue labbra irraggiava un dolce sorriso nemmo non poteva staccare gli occhi da quell'angelica testa voi siete buona mormoro buona come gli angioli del cielo vostra madre deve sorridere come deve essere felice in questo momento lo credi esclamò clara stringendo la mano del vecchio e ritornando un po triste dimmi balbettò la mia povera mamma ha perdonato al babbo oh sì ma lui fu inesorabile eppure non è cattivo il babbo no che volete dire egli ha molto troppo affetto per me dite il vero e se io approfittando di questa sua adorazione intercedessi per mio fratello nemmo trasalì guardatevene bene sarebbe una sventura per quell'innocente so quello che dico clara non insistè pochi minuti dopo il vecchio servitore usciva da quella camera la fanciulla non pensò più a coricarsi rilesse cinque o sei volte la preziosa lettera di sua madre poi si abbandonò alle penose meditazioni che le suscitava il racconto di nemmo suo padre era colpevole di un delitto suo padre cacciava senza alcun rimorso un figliuolo dalla casa paterna gli toglieva il nome lo diseredava io non devo erigermi a giudice di mio padre mormorò ma soffro oh soffro tanto nel veder distruggere le più sante illusioni della mia vita e per calmare questa atroce tortura non mi resta che di adempire il legato della mia povere santa mamma tutta intera la notte trascorse per la fanciulla indesolanti pensieri all'alba aprì la finestra per esporre la sua fronte pallida e ardente alle fresche aure del mattino la natura riposava ancora il tempo era sereno un lieve venticello chinava la cima degli alberi il parco il giardino erano immersi nel silenzio e nel mistero gli sguardi della fanciulla si spinsero lontan lontano dove erano le montagne forse è la mio fratello mormorò con emozione oggi lo vedrò povero fanciullo ma che dirà vedendomi non avrà paura di me no io gli dirò che sono sua sorella lo abbraccerò lo bacerò gli parlerò di nostra madre ella si ritrasse dalla finestra e per timore che la governante si accorgesse di quella notte passate in piedi disfece il letto si arruffò alquanto le trecce ed indossò l'abito da mattina ma era pallida in volto e i suoi occhi rimanevano un po' tristi quando scese a far colazione ella si era già rimessa ed il conte non si accorse della emozione che l'aveva agitata durante tutta la notte clara baciò il padre col solito affetto e sedette accanto a lui hai dormito bene mia cara le chiese il conte clara trasalì benissimo babbo ed ho fatto tanti bei sogni soliti sogni di paradiso sono fatti per te oh no babbo non ho sognato degli angeli disse clara dopo una lunga pausa ho sognato d'avere un fratellino un bel fratellino che facevo ballare sulle mie ginocchia il ciglio del conte si aggrottò egli divenne livido in volto e fissò due occhi terribili sanguigni sulla figlia come se dal sembiante volesse leggerle nell'anima ma clara rimaneva calma e serena i suoi occhi celesti si rivolsero affettuosi al padre mentre le sue labbra mormoravano che hai babbo ti senti male la voce della figlia lo calmò come per incanto sono pazzo disse fra sé clara non ha proprio che sognato e cercando di sorridere servì egli stesso a clara un piatto di fragole non ho nulla disse non ricordo di che parlavi ti raccontavo un sogno lascia stare i sogni che sono tutti menzogneri come potresti tu avere un fratellino se la mamma è morta la giovinetta malgrado l'impero che aveva su se stessa arrossì e impallidì a vicenda eppure disse con ingenuità vedi mi sarebbe parso così bello avere un fratellino o una sorellina che dividesse i miei studi i miei svaghi tu sei buono caro babbo ma stai così poco con me non c'è la governante e la ti ama con tutto il cuore ed è un'amica savia che sa guidare la tua ragione insegnarti tutto ciò che è bello e buono non ti basta clara taceva ed un sospiro le gonfiava il petto e la capiva che era inutile continuare su quell'argomento il conte non voleva comprenderla ed al lampo che era scaturito negli occhi di lui comprese che nemmo aveva ragione che se il padre avesse saputo ciò che ella aveva scoperto del fratello il povero fanciullo sarebbe stato perduto il conte e clara continuarono a far colazione in silenzio ma il sospetto non si era dileguato dall'anima di rolando e quando ebbe finito oggi non sei del tuo solito umore clara mia esclamò egli ad un tratto guardami mia cara la giovinetta alzò la testa per obbedire in questo modo il di lei sguardo incontrò di nuovo quello di suo padre e la trasalì senza volerlo perché ricordò le parole di nemmo ma rimettendosi tosto schiuse le labbra ad un delizioso sorriso sono sempre la stessa babbo disse quasi lietamente la fanciulla mi ami tu molto e me lo chiedi se sono così felice non lo debbo forse a te grazie delle tue parole ora lasciami ho bisogno di essere solo clara uscì dal salotto dopo aver dato al padre un altro bacio la sua anima così nobile così pura non avrebbe mai potuto odiarlo ti è piaciuto il video allora metti like sostieni il canale è sufficiente un semplice like vuoi farmi sapere cosa ne pensi lascia un commento ti risponderò anche questo può aiutare il canale e se ti è piaciuto questo audiolibro iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella grazie